E' così, io ho tolto la luce, è incredibile Cioè sei diventato troppo forte Telefoniamo Lo sta rispondendo nel punto di vista Cosa è successo? Non c'era! Silenzio voi! Cosa? E' medicamente No, di nuovo! Scusa, ma stai, ma cosa, quando torni? Oh, io ti giuro che sto qui al contatore Scusa, c'è un po' di giù proprio Dovevo far bruciare tutta la casa proprio la notte Così sto Va bene, ti aspettiamo Ma fai veramente schifo? Cioè, noi abbiamo tolto paga per te Tu sei durato tre secondi Cioè, boh, io gli ho dato un pugno Non pensavo di fare così Perché se no non glielo vavo Cioè, mamma mia, hai fatto cascare un fulmine in casa Mamma donna, sono dei poteri magici a quanto pare io Faccio vedere che sono l'alpha L'hai distrutto tu Faccio vedere che sono l'alpha